Siamo Gosia Tuzianiecka, Marco Memeo, siamo due artisti, abitiamo a Robella, non molto distante di qua. Qui ci troviamo a Monteo, da Po, e siamo vicini alla scuola dei nostri bimbi, che frequentano i nostri bimbi. L'idea di questo murale è nata appunto da un gruppo di genitori che si interrogava sull'utilizzo della mascherina dei bambini anche seduti al banco di scuola. Come artisti noi ci siamo sentiti chiamati in causa, nel senso che bisognava fare comunque un'azione per portare la luce sotto i riflettori, a conoscenza di più persone, questo problema. Io avevo questa immagine stampata dei bambini con le mascherine da mesi, dal primo momento di lockdown, da quando ci hanno chiusi, avevo questo quadro in mente. Quel giorno io ho preso un lenzuolo che ho messo davanti a casa e ho dipinto questi due volti con dei bambini, con le mascherine. E subito dopo abbiamo visto questa parete bellissima vicino alla statale che porta anche a nostra scuola. Abbiamo chiesto a questo conoscente nostro di Walter, che è il proprietario della dita Pancia e Cuore, gli abbiamo parlato di questa idea di poter realizzare un murale su questa casa e lui ha detto subito sì, che gli piaceva molto l'idea. I bambini secondo voi sono tristi, quelli che stanno a scuola con le mascherine, i vostri figli sono tristi di stare a scuola con le mascherine? Guarda, mi sono domandata, ancora mi domando su questa cosa oggi. Sono triste io, sono triste io come siamo tutti un po' tristi in questo momento che viviamo. Sì, sono triste io, penso che magari anche loro sono tristi, sì, di averla indossare tutto il tempo, obbligati a scuola. Io sono la dottoressa Raffaella Napoletano, sono un medico specializzato in oncologia, agopuntura e omotossicologia. Sono direttore sanitario in un RSA qui vicino e mi occupo anche di guardie mediche e quant'altro. Nessuno di noi può avere proprio la soluzione o la verità in tasca, sicuramente in base, proprio con l'aiuto di chi si occupa di statistica e dei medici sul campo, quello che si è visto è che i bambini non sono la fonte di contagio. Forse l'utilizzo della mascherina in staticità quando la distanza è mantenuta è una manovra un po' eccessiva, anche perché bisognerebbe sempre pesare, quando si prendono queste decisioni, infatti i rischi benefici, come in tutte le cose. Quindi forse cautelativamente si potrebbe tornare a come era prima, anche perché se la realtà, il dato di fatto, ci fa vedere che questi bambini non sono stati fonti di contagio, non sono finiti essi stessi in ospedale o in rianimazione, forse si può allentare un po' la presa, senza superficialità, ma permettendo ai bambini un po' più di normalità. Quando noi l'abbiamo fatto, io poi mi sono detta, ma chissà se lo vede qualcuno, finisce qua. Era sì, un po' mettere un riflettore, una luce su questo tema, perché anche il nostro figlio, dopo una settimana che ha dovuto indossare la mascherina, gli è comparso un eritema sotto il naso e tuttora è un continuo. Noi ci preoccupiamo solamente per questi nostri figli che frequentano le scuole elementari, a queste condizioni di questo obbligo continuo di indossare la mascherina. Sono i nostri figli, sono i figli di tutti.